Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video! Ragazzi, quest'oggi andremo a fare una reazione pazzesca! L'avete letto dal titolo? La canzone di Sonic.exe! Non sto scherzando, esiste una canzone su Sonic.exe ed è un qualcosa di pazzesco! Ok, ci sono... no, mi ero un attimo mutato in Sonic.exe, dettagli, dettagli da tralasciare. Oggi vedremo certe animazioni particolari e due o tre canzoni! Dovete dirmi poi qua sotto nei commenti qual è stata la vostra preferita! Io ragazzi, non lo so, non le ho ancora sentite, non le ho ancora viste, quindi lo scopriremo insieme! Allora, questo è come Sonic diventa Sonic.exe... Nonno... Sonic diventa Sonic.exe mangiando che cosa? Un uovo? Ok, si mangia l'uovo, si trasforma, ok... Mamma mia! Ma tu devi prendere una cacarella a spruzzo di quelle che non ti alzi più dal gabinetto! Ha detto, esci da questa stanza! Io sto giocando a Minecraft! Ma come? Tails sta giocando a Minecraft! Ma it's a joke! Vabbè, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Ha suddato la porta... Oh no, oh no, oh no, è arrivato Sonic! Che cosa? Che cavolo è successo? Ma che cavolo è sta roba? Ha trasformato Tails in un peluche! Perché quella era la postazione di Tails... Ok ragazzi, non mi farò domande, questa cosa del peluche non la conoscevo! E andiamo con la prima canzone ragazzi! Intanto lo avete lasciato like! Siamo arrivati a 10.000 likes sotto questo video per la canzone di Sonic.exe! Dovevo arrivarci per forza! Iscrivetevi al canale che siamo arrivati a mezzo milione e ora si punta al milione! Allora, Wanna Play si chiama la canzone, quindi vuoi giocare? No, no, sinceramente no! Vabbè, però vediamo... Ma che cavolo è? Oh mamma mia! Di nuovo quel peluche! Ma poi perché è diventata Sonic per ride e diventa Sonic.es? Chi cavolo sei ce l'ha scritto? E continua... Oh mamma mia, è molto inquietante! Mamma mia, che cavolo... Vabbè, perché c'ha questa lucina? Sonic, che cosa sta succedendo? Do you wanna play with me? No, no! I want to play with my phone at Talking Tom! No, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero, non voglio giocare con il mio telefono a Talking Tom, sto scherzando. Questa invece dovrebbe essere un'animazione divertente, tipo spoiler, della canzone che andremo a vedere dopo. Ok, interessante, interessante. Alcuna matata ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono SonicGamer89. Vabbè, ragazzi, non mi farò domande. C'è un Sonic con delle cuffie, penso sia un intro, perché vedo il nome del tizio, comunque lascio tutti i link sotto in descrizione, se volete andare a guardare. Il titolo è Tails è in pericolo. Attenzione, c'è una casa. Sento un urlo, potentissimo anche. No, Tails! Ma che ci fai sotto al bancone? E la mamma ti ha scoperto mentre non facevi compiti? Mentre giocavi a Minecraft? No, 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 no! Ma che gli sta avvenendo? Uno spasmo da... Ma che cavolo ho appena visto? Ma non penso che succeda quello nella canzone originale, ragazzi. Non l'ho ancora vista, però immagino che non possa succedere tutto ciò. Perché è entrato Shadow con un mitra e ha iniziato a sparare a tutti, ma stiamo scherzando? Va bene, non mi farò domande. Sonic muore. SonicGamer89 che si beve una lattina di... Ma che cavolo? E poi se la scilla così, se la va a scillare con una spada vicino a un albero. Giusto, no? Tutto normale, ragazzi. Tutto normale. Ok, ok. La notte di Tails. Attenzione, qua ci stiamo avvicinando da lui, no? Quindi è interessante vedere questi video a tema, no? Qui c'è Tails che dopo essere scampato dall'avvenimento di prima grazie a Shadow e a SonicGamer89 si ritrova in mezzo alla strada. Ma attenzione! Succede una cosa a quanto panino del McDonald's con la mia gang, ci bevamo una Coca-Cola dentro al privé. Scusate, mi sono fatto vendere un attimo. Si guarda bene attorno, che begli occhi pixelosi che hai, signor Tails, mi piacciono veramente tanto. Pronto, non so se senti, c'è tipo uno che ti sta litando dietro le orecchie, caro Tails, e la cazzo... Ma gli ha tirato un pugno! Ma gli ha tirato un pugno ed è caduto! E gli scappa! Deja! No! No! No, no, l'ho già vista questa scena! L'ho già vista! Solitamente Tails si fa prendere e muore, ma succederà veramente questo? Non lo so! Tails, fai qualcosa! Dai un altro... Ma c'è un cortellino! E lui ride perché non gli fa niente, cioè... No! Che schifo! No! Ride bene chi ride ultimo, caro Sonic! Ma, cioè, non ci credo, veramente è finita così. Cioè, Tails gli ha tirato una coltellata ed è finita così. Ragazzi, questo Sonic.exe in queste animazioni... Non è che stia facendo una bella fine in realtà, eh! Ok, lui è ancora a terra. Interessante. Eh! È diventato ancora più rosso per un momento e non si sa... Oh no! No! Sonic Game 89 è stato ucciso ed è arrivato Sonic Game 89.exe! No! L'ultimo mese dell'anno! Perché l'ultimo mese dell'anno? Siamo a ottobre e non ci siamo ancora. Però qua mi sa che era tema di Natale, no? Ok. Suona una canzoncina di Babbo Natale. E già a dicembre... No! Torna tra un paio di mesetti che non ti voglio adesso, grazie. E siamo arrivati alla seconda canzone, ragazzi! Quelle che stavamo aspettando di più, perché adesso questa e la prossima sono le canzoni più belle che ci siano! Non è vero, cioè, non l'ho ancora sentita. Però mi danno questa impressione. Non lo so, vediamo. Ok, 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 vediamo, vediamo, vediamo. Qua c'è un Sonic chiuso in una gabbia, tipo da manicomio. Ok, c'è un Sonic normale. Io non capisco se le canzoni sono di Sonic.exe che c'entra Sonic normale. Che cosa stai facendo? Oh, 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 si è trasformato. Non si è mangiato l'uovo questa volta. Oh, yes! Wow! Wow! Mamma mia! Pizzeria! Sonic Mania! Sì, ma non fa niente, cioè, queste quattro cose basta, ma si ritrasforma. È solo questo! Che schifo! Sono deluso! Da questa... Ma che cos'è? No, allora, allora. Tutto nelle mani dell'ultima canzone, perché se tu... Tutto... Ma che è successo? Ma è diventato bianco! La vedo un po' pallida, signora Sonic. Signora? Oh, no. Vabbè, comunque... Mo' sono rimasti solo gli occhi. Ok, non sto capendo assolutamente niente ed è finito. Preparatevi a questo video che è un qualcosa di assurdo. C'è Sonic.exe all'interno di un quadro, a quanto pare. Con una canzone discutibile, come sottofondo, che mi fa venire voglia di tagliarmi le... Volevo dire, tagliarmi i capelli. Non me li voglio tagliare i capelli. C'è un Tails che si imbatte nel scopare... Spazzare! Porta l'immondizia al di fuori della struttura e si imbatte dinnanzi a un quadro. Arriva davanti al quadro e nota che al suo interno non c'è un emerito nulla. E quindi si chiede... Ma non c'era mica qualcosa al suo interno? Qualche secondo antecedente? Attenzione! C'è un po' di movimento. Un po' di spaura da parte di Tails. E vede il quadro muoversi. Ma starà succedendo qualcosa di strano? Sì! È apparso Sonic nel quadro. E si è girato! È un quadro o un... Mette la mano davanti la bocca. E continua a muoversi! Lo indica con il suo suave leggiadro dito. E continua a indicarlo. Next year! Ma come next year? È un film! Mamma mia ragazzi! Mi sono spaventato tantissimo! Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Comunque è molto interessante. The End. La fine. Shadow Sonic. Oh mio Dio quel Tails morto Sonic. La fine di... C'è la sua fine. Ovit è la sua fine. Oh no! È morto! È risuscitato! Ma che cos'è? Hello! Sonic.exe! È interessante! È interessante! E ora finalmente ragazzi! Posso annunciarvi che siamo arrivati alla canzone che dura di più. Quindi immagino sia anche la migliore. Immagino! Questo tra l'altro ragazzi è uno speciale da Halloween. Quindi siamo anche a tema. Siamo anche a tema. Fantastico! 3, 2, 1! Via! Oh! Dig dog! Oh mio Dio! Corri a dire la porta! Sta arrivando! È troppo tardi per scappare! Guarda attraverso le finestre! I tuoi occhi incontravano gli occhi ghiacciati! Io voglio vederli! Io voglio vederli! Ding dong! Sta arrivando! Oh no! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Giochiamo! Giochiamo e divertiamoci! Giochiamo e divertiamoci! Questo ragazzi è Sonic bianco! Cioè ma tipo Sonic con gli occhi bianchi è ancora più spaventoso di quello con gli occhi neri? E giochiamo a nascondino e divertiamoci! Vuole giocare a nascondino! Questo ragazzi io ve l'ho detto che era uno spoiler quel video di prima a questo. Adesso vedremo Tails che si è nascosto sotto al tavolo forse? Sì sì forse! Eh sì! Mi sa proprio che è nascosto sotto al tavolo! Posso sentirti! Eh sì ragazzi è nascosto! Oh mamma mia! Ma che è quella roba dietro? Oh ma quanto è inquietante ragazzi! Quanto è inquietante! Povero Tails! E mi sa che Sonic ha vinto il nascondino! Gli ha messo la mano! È sparito! Posso vedere la tua testa? Knock knock! Sono di fronte all'autoporta! Sto arrivando! E non chiederò il permesso! E giustamente no? Sono dentro la tua stanza! Dove sei nascosto? Il gioco? E sta per arrivare alla fine? Sto guardando sotto il letto! E per caso sotto il letto? Nella tua stanza? Ho visto l'armadio chiudersi dietro tra l'altro? Tu non sei qui! Attenzione sei nascosto? No! Non l'ha scoperto! Nell'armadio l'ha scoperto! L'ho scoperto per meglio però! Tu sei qui da tanto! Tu sei qui! Ding dong! Mamma mia ragazzi è inquietante però! È inquietantissima! È inquietantissima! Oh mamma mia! È questo! Ma ha di nuovo questo peluche! Detto questo ragazzi! Direi che abbiamo visto abbastanza! Abbiamo reagito a numerosi video particolari di Sonic! Abbiamo reagito alle canzoni più popolari di Sonic! L'ultima mi piace di più ragazzi! Sono sincero con voi! L'ultima mi piace di più! Poi fatemi sapere voi quale preferite! Ci vediamo in un prossimo video! Ringrazio a tutti quanti per la visione! E ciao ragazzi! Bye! Bye!